Una vita anticipazioni che riprendono le puntate che andranno in onda dal 25 giugno al 2 luglio. Al secolo XX, Pasqual Sacristán arriva a sorpresa nel quartiere, Imma sarà molto felice di accogliere il figlio, padre del giovane Guillermo. Fin dal suo primo ingresso, l'uomo avrà un atteggiamento abbastanza schivo. Vorrà sostenere sua madre con il nuovo ristorante e cercare di controllare la vita di suo figlio. Il nuovo arrivato non passerà inosservato a Hortensia, che appena lo vede farà del suo meglio per farsi notare. L'imprenditore, invece, sarà pronto a ritornare a gestire i suoi vecchi affari, che consistono nella gestione di un vasto territorio di aranci e negli affitti di diversi appartamenti. Nel frattempo Ramon inizierà a stabilire una pericolosa amicizia con David Esposito. Lolita, invece, sarà preoccupata per la presenza di alcuni uomini che inseguono Fidel. La donna, per cautela, decide di avvertire il poliziotto prima che accada qualcosa di brutto. Dopo un duro confronto, Ramon e Liberto torneranno il rapporto di un tempo. Palacios lo inviterà a un incontro sociale, Lolita, invece. Si rende conto che Ramon e Fidel si nutrono a vicenda delle loro idee radicali. Ramon si sentirà sempre più al suo agio. L'uomo non nasconderà l'odio che prova per la polizia, dopo quello che è successo al suo figlio, e inizierà a esprimere le sue idee in un articolo pubblicato sul giornale, in poche ore. La scrittura diventerà l'argomento più discorso del quartiere. Mentre i vicini saranno sbalorditi, Albare Sermoso sarà l'unico a non aver letto la rubrica. La sua infermiera deciderà di nascondergli il giornale. Tuttavia, quando Felipe scopre la decisione di Dori, sbotta con lei. Non puoi trattarmi come se fossi un bambino che deve essere protetto da tutto. Si arrabbia l'avvocato e annulla la sua passeggiata con la donna.